Buono ma adesso inizia a giocare eh? Pronto? Ma c'ha anche l'audio Nel video Lore? C'ha anche l'audio Si Ti sta sucendo Ma non si può zoomare nel video Si che si può non vai? si ma shan, non mi sconcentrare tu filma e basta, puoi zoomare no perchè tu guardi la tua mia ma se puoi zoomare comunque wow che ne so e wow umano vai stai filmando shan? fai cronista shan ragazzi siamo sul punteggio di xx xx per x no quanto siete? eh lore quanto siete lore? oooooh l'hai filmato questo gioco si quanto siete? non lo so xx xx sta vincendo xyuan hai visto cosa? che cosa? quella roba l'ha vista shanghai ah signore e signori vediamo questo il svizzero viene deluso dalle sue prestazioni il servizio prende rovescio ma largo del tavolo x vediamo la maviola vediamo la maviola vediamo la maviola vediamo la maviola come tenni sai niente il challenger risposto angolo di gioco punto di mister s looooh quanto state? ma non ci dai intanto spedito 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 vuole all'esterno del tavolo intanto Lorenzo sbaglia ancora qui qui l'errore è diffeso pigliare la rete servizio ooooh Lorenzo deve aver mangiato polenta oggi perchè non riesce a muoversi non riesce a muoversi ma 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 non riesce a muoversi ricordiamo ancora che Lorenzo ha rischiato la vita qualche minuto fa per quel pezzo di legno che stava per cadere in testa è ancora sotto shock il nostro educatore eh 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 no vediamo che è un po' nervoso potremmo fare un'intervista è andato col folletto seduto sul sulla sedia il succhia limoni saverio si ma si vede la pallina c'ha si che si vede a parte quando la tiri troppo veloce non si vede molto bene Lorenzo non riesce a farne una giusta ciò vuol dire vediamo l'espressione del nostro giocatore addirittura manca la pallina amici manca la pallina questa è la scherzata vediamo la cecità la cecità di Lorenzo che lo porta un nervosismo cecioso stai zitto stai zitto la cecità qualche puntata ho avuto 3, 4, 15 minuti non lo so non lo so sembra troppo non lo so 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 una rete è ancora colpita questo è il match point ragazzi si ma è 50 match point non lo so la pecola della non lo so spiegare io ci aspeto io ci aspeto e c'è ancora l'errore inicepibile di Lorenzo Casalena cambiamo angolazione di tiro ora vediamo le prestazioni di signor Lorenzo è presa questa? si la vieni presa a me? si la pallina era qua era qua così c'è anche la pallina si sa questo è il match point chi sbaglia ha perso questo è il match point andiamo a intervistare il perdente dopo il vincitore signor perdente come si sente? non mi scuota che ho la telecamera nuova il campione il campione vediamo la rivalità tra i tuoi il campione tocca a me tocca a me il 4 20 mettiamo lo sponsor dai vieni adesso tocca a me salve dovete filmarci no qui è lo sponsor devi farmi geomarber allora signor ma quando ragazzi comprate 20 di club signor Sied come si sente aver realizzato questa 28esima inaugurazione indoor di ping pong a casa casalena la solita cosa vinco sempre per il basso mi so però non ci gusto ho smesso col ping pong vediamo intanto per gli appassionati a casa la marca che devono comprare non è la marca che fa la differenza è il giocatore e lo sponsor vuole in aria